Il grande reset. Di cosa si tratta? Beh, direi che dopo 14 mesi di lockdown e di uno stato di emergenza quasi continuo, molti di noi hanno percepito di trovarsi come all'interno di uno straordinario esperimento di ingegneria sociale. Senza fare alcuna dietrologia o complottismo perché non sono mai opportuni, se noi andiamo a leggere quanto è stato scritto dal World Economy Forum di Davos possiamo trovare sicuramente degli spunti di riflessione molto interessanti. Il fondatore del World Economy Forum, l'ingegnere Klaus Schwab, ha scritto un testo che è diventato sicuramente molto molto conosciuto che si chiama Covid-19, the Great Reset, disponibile su Amazon, non mi pare sia ancora stato tradotto in italiano, ma comunque è un testo che per chi ha dimestichezza con la lingua inglese vale sicuramente la pena leggere. Lui cosa dice? Dice il Covid-19 è un punto di cesura nella storia dell'umanità, quindi fa un'affermazione fortissima, dice prima si divideva la storia dell'umanità in After Christ e Before Christ, adesso la divideremo in Before Coronavirus e After Coronavirus, quindi addirittura dice c'è un prima della pandemia e un dopo della pandemia. Lui parla di era pre-pandemica, quindi fino a gennaio 2020 viviamo tutti nell'era pre-pandemica, adesso viviamo nell'era post-pandemica. Ecco, poi Schwab dice, ma quindi l'epidemia è così terribile da giustificare un giudizio così forte? Lui dice, no, assolutamente, è una delle epidemie, un'epidemia non particolarmente grave nella storia dell'umanità, ce ne sono state altre molto più pericolose. Ma allora uno dice, ma allora perché spingersi a fare affermazioni così forti? Ma perché, come dice Schwab, non è solo l'epidemia, ma è il fatto che l'epidemia viene a un punto di rottura dei sistemi sociali, economici e politici e quindi rappresenta un po', se volete, la goccia che fa traboccare il vaso. L'epidemia rende, secondo Schwab, impossibile tornare allo stato precedente e quindi costringe ad accelerare nella direzione di quei progetti che si avevano già in mente prima dell'epidemia stessa e sicuramente il riferimento è all'agenda ONU 2030, è tutto il concetto di sviluppo sostenibile a cui sicuramente dedicheremo una pillola. E quindi qual è in soldoni il discorso? Direi dobbiamo andare verso una governance più ampia, un discorso di multilateralismo, una governance più accentrata perché il sistema attuale non funziona più. Questo vuol dire dovremo riconoscere più sicurezza dall'alto, ci sarà una diminuzione ovviamente della libertà e degli spazi di iniziativa private e anche la stessa proprietà privata sarà probabilmente in qualche modo limitata e si crea una sorta di governance mondiale dove i grandi gruppi industriali e finanziari, i grandi governi, le banche centrali, ovviamente le grandi elite, politiche, economiche e finanziarie si uniscono per imprimere una direzione migliorativa alla storia dell'uomo. Il motto di Biden, build back better, ricostruire in modo migliore è assolutamente emblematico. Quindi si vuole andare verso un'era post-pandemica sicuramente migliore di quella precedente in cui tra i punti fermi ci sarà il discorso dello sviluppo sostenibile, il discorso dell'evoluzione tecnologica e tanti altri punti. Ma io voglio attirare la vostra attenzione su un punto in particolare del libro di Joab dove lui dice è vero esiste la realtà, esistono i numeri, esistono i fatti sostanzialmente, ma poi alla fine il comportamento delle persone è determinato dall'emozione dei sentimenti. Joab non dice il comportamento è condizionato dall'emozione dei sentimenti su cui potremmo essere d'accordo, ma dice il comportamento è determinato dall'emozione dei sentimenti. Quindi lascia intendere che con un adeguato storytelling, cioè un'adeguata narrazione o se volete un'adeguata propaganda, si possono spingere le persone ad accettare delle cose che non avrebbero accettato in altri momenti. E in effetti, per collegarsi a quando abbiamo detto in esordio, dopo 14 mesi di lockdown si può dire che la società civile è sicuramente molto più disponibile ad accettare una, a cedere spazi di libertà in cambio di una, se volete, maggiore sicurezza garantita dall'alto e quindi in qualche modo si rischia di entrare in una prospettiva ancora più centrata, ancora più dirigistica. C'è una frase che era citata da Churchill che diceva non lasciare mai che una buona crisi vada sprecata. Ecco, questo sembra essere un po' il motto di The Grand Reset, la crisi è veramente una grande opportunità, come ha detto Joab, una grande occasione da cogliere, da cogliere in fretta per imprimere quell'accelerazione che volevamo dare, che fino a prima della pandemia non riuscivamo a dare ai sistemi sociali, economici e politici.